Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti, leggo sul Sole 24 Ore l'osservatore romano della globalizzazione turbo-capitalistica che anche la capitana, caro Larachete, dice sì all'impiego delle armi europee contro la Russia di Putin. Proprio così la capitana non si oppone alla scelta, scellerata a nostro giudizio, dell'Unione Europea di rendere possibile all'Ucraina l'impiego delle armi fornite all'Ucraina direttamente per colpire la Russia. Una decisione scellerata, l'abbiamo rimarcato più volte, e non ci stupiamo nemmeno più di tanto che caro Larachete, che per taluni rappresenta l'opposizione all'ordine dominante, l'antagonismo, voti, o meglio si esprima, a favore di questa scelta scellerata. Del resto, l'abbiamo detto a più riprese, caro Larachete è allineata con la sinistrasce neoliberale che non fa altro che spostare il neoliberismo applicandolo anche alla sfera dei costumi. Le posizioni di caro Larachete sono sempre allineate all'ordine mondiale liberale capitalistico, quello che vuole più immigrazione di massa per avere più braccia a basso costo, con cui abbassare i costi della forza lavoro e quindi i diritti della classe lavoratrice in generale, e adesso anche sul fronte bellico caro Larachete si mostra perfettamente allineata all'imperialismo di Washington rispetto al quale l'Unione Europea è una colonia di secondo ordine. Perde una buona occasione per opporsi, ma lo sappiamo bene, caro Larachete non si oppone a nulla, semmai si oppone solo a ciò che possa opporsi alla globalizzazione neoliberale imperialistica.